Ciao a tutti, oggi leggiamo insieme una favola dei fratelli Grimm, quella che porta per titolo Ansel e Gretel. Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna che non aveva di che sfamarsi, riusciva a stento a procurare il pane per sua moglie e i suoi due bambini, Ansel e Gretel. Infine giunse un tempo in cui non poteva più provvedere neanche a questo e non sapeva più a che santo votarsi. Una sera, mentre si voltava inquieto nel letto, la moglie gli disse Ascolta marito mio, domani mattina all'alba prendi due bambini, dai a ciascuno un pezzetto di pane e conducili fuori in mezzo al bosco, nel punto dove è più fitto. Accendi loro un fuoco, poi vai via e li lasci soli laggiù. Non possiamo nutrirli più a lungo. No, moglie mia, disse l'uomo, non ho cuore di abbandonare i miei cari bambini nel bosco, le bestie feroci li sbranerebbero subito. Se non lo fai, disse la donna, moriremo tutti quanti di fame e non lo lasciò in pace finché egli non ha consentì. Anche i due bambini non potevano dormire per la fame e avevano sentito quello che la madre aveva detto al loro padre. Gretel pensò che per loro fosse finita e incominciò a piangere amaramente, ma Ansel disse, stai zitta Gretel, non ti crucciare, ci penserò io. Si alzò, si mise la giacchettina, aprì l'uscio da basso e sgattaiolo fuori. La luna splendeva chiara e i ciottoli bianchi rilucevano come monete nuove di zecca. Ansel si chinò, ne ficcò nella taschina della giacca quanti poteva farne entrare e se ne tornò a casa. Consolati Gretel e riposa tranquilla, disse, si rimise di nuovo a letto e si addormentò. Allo spuntare del giorno, ancora prima che sorgesse il sole, la madre venne e li svegliò entrambi. Alzatevi bambini, vogliamo andare nel bosco, qui c'è un pizzetto di pane per ciascuno di voi, ma siate saggi e conservatelo per mezzogiorno. Gretel mise il pane sotto il grembiule perché Ansel aveva le pietre in tasca, poi si incamminarono verso il bosco. Quando ebbero fatto un pezzetto di strada, Ansel si fermò e si volse a guardare la casa, come fece più volte. Il padre disse, Ansel, che cos'è che ti volti sempre a guardare la casa? E perché ti fermi? Su, muoviti! Ah, babbo, guardo il mio gattino bianco che è sul tetto e vuole dirmi addio. Disse la madre, ehi sciocco, non è il tuo gattino, è il primo sole che brilla sul comignolo. Ansel però non aveva guardato il gattino, ma aveva buttato ogni volta sulla strada uno dei sassolini lucidi che aveva in tasca. Quando giunsero in mezzo al bosco, il padre disse, ora raccogliete legna, bambini, voglio accendere un fuoco per non gelare. Ansel e Gretel raccolsero rami secchi e ne fecero un mucchietto. Poi accesero il fuoco e quando la fiamma si levò alta, la madre disse, adesso stendetevi accanto al fuoco e dormite, noi andiamo a spaccare legna nel bosco, aspettate fino a quando non torniamo a prendervi. Ansel e Gretel rimasero accanto al fuoco fino a mezzogiorno, poi ciascuno mangiò il proprio pezzetto di pane. Credevano che il padre fosse ancora nel bosco, perché udivano i colpi d'accetta, invece era un ramo che gli aveva legato a un albero e che il vento sbatteva di qua e di là, così attesero fino a sera. Ma il padre e la madre non tornavano e nessuno veniva a prenderli. Quando fu notte fonda, Gretel incominciò a piangere, ma Ansel disse, aspetta soltanto un poco finché sorga la luna e quando la luna sorse, prese Gretel per mano, i ciottoli brillavano come monete nuove di zecca e indicavano loro il cammino. Camminarono tutta la notte e quando fu mattina giunsero alla casa paterna. Il padre si rallegrò di cuore quando vide i suoi bambini, poiché gli era dispiaciuto doverli lasciare da soli. La madre finse anch'essa di rallegrarsi, ma segretamente ne era furiosa. Non passò molto tempo e il pane tornò a mancare in casa e Ansel e Gretel udirono una sera la madre che diceva al padre, una volta i bambini hanno ritrovato il cammino e io ho lasciato correre, ma adesso non c'è di nuovo più niente da mangiare, rimane solo una mezza pagnotta in casa, devi condurli domani più addentro nel bosco perché non ritrovino più la strada. L'uomo si sentì stringere il cuore e pensò, sarebbe meglio se dividessi l'ultimo boccone con i due bambini, ma siccome aveva già ceduto una volta non poteva dire di no. Quando i bambini ebbero udito quel discorso Ansel si alzò per accogliere di nuovo i ciottoli, ma quando giunse alla porta la madre l'aveva chiusa, tuttavia consolò Gretel e disse dormi cara Gretel, il buon Dio ci aiuterà. Allo spuntare del giorno ebbero il loro pezzetto di pane, ancora più piccolo della volta precedente, per strada Ansel lo sbriciolò in tasca, si fermava sovente e gettava una briciola per terra. Perché ti fermi sempre Ansel e ti guardi intorno? disse il padre. Cammina! Ah, guardo il mio piccioncino che è sul tetto e vuole dirmi addio. Sciocco, disse la madre, non è il tuo piccione, è il primo sole che brilla sul comignolo, ma Ansel sbriciolò tutto il suo pane e gettò le briciole per via. La madre li condusse ancora più addentro nel bosco, dove non erano mai stati in vita loro. La dovevano di nuovo sedere accanto al fuoco e dormire e alla sera i genitori sarebbero venuti a prenderli. A mezzogiorno Gretel divise il proprio pane con Ansel che aveva sparso tutto il suo per via. Ma passò mezzogiorno e passò anche la sera, senza che nessuno venisse dai poveri bambini. Ansel consolò Gretel e disse, aspetta che sorga la luna, allora vedrò le briciole di pane che ho sparso, ci mostreranno la via di casa. La luna sorse, ma quando Ansel cercò le briciole non le trovò. I mille e mille uccellini del bosco le avevano viste e le avevano beccate tutte. Ansel pensava di trovare ugualmente la via di casa e si portava dietro Gretel, ma ben presto si persono nel grande bosco. Camminarono tutta la notte e tutto il giorno, poi si addormentarono per la grande stanchezza. Poi camminarono ancora tutta una giornata, ma non riuscirono a uscire dal bosco. Gli avevano tanta fame, perché non avevano nient'altro da mangiare che un po' di bacche trovate per terra. Il terzo giorno, quando ebbero camminato fino a mezzogiorno, giunsero a una casina fatta di pane e ricoperta di focaccia. Con le finestre di zucchero trasparente. Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà, disse Ansel. Io mangerò un pezzo di tetto. Tu, Gretel, mangia un pezzo di finestra. È dolce. Quando Gretel incominciò a rosicchiare lo zucchero, una voce sottile gridò dall'interno. Chi mi mangia la casina zuccherosa e sopraffina? I bambini risposero. È il vento che piega ogni stelo, il bel bambino venuto dal cielo. E continuarono a mangiare. Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo e Ansel staccò un enorme pezzo di focaccia dal tetto, ma ad un tratto la porta della casa si aprì e una vecchia decrepita venne fuori piano piano. Ansel e Gretel si spaventarono tanto che lasciarono cadere quello che avevano in mano. Ma la vecchia scosse il capo e disse Ah, cari bambini, come siete giunti fin qui? Venite dentro con me, siete benvenuti? Prese entrambi per mano i bambini e li condusse nella sua casetta. Fu loro servita una buona cena. Latte e frittelle, mele e noci. Poi furono preparati due bei lettini bianchi e Ansel e Gretel si corigarono e pensavano di essere in paradiso. Ma la vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini e, per attirarli, aveva costruito la casetta di pane. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo uccideva, lo cucinava e lo mangiava. E per lei, quello, era un giorno di festa. Era proprio felice che Ansel e Gretel fossero capitati lì. Di buon mattino, prima che i bambini fossero svegli, ella si alzò, andò ai loro lettini e, quando li vide riposare così dolcemente, si rallegrò e mormorò tra sé. Saranno un buon buon concino per me. Poi afferrò Ansel e lo rinchiuse in una stia. Quando questi si svegliò, si ritrovò circondato da una grata, come un pollo da ingrassare e poteva fare solo pochi passi. Poi, la vecchia, svegliò Gretel con uno scussone e le gridò. «Alzati, poltrona, prendi dell'acqua e vai in cucina a preparare qualcosa di buono. Tuo fratello è là, nella stia, e voglio ingrassarlo per poi mangiarmelo. Tu devi dargli da mangiare». Gretel si spaventò e pianse, ma dovette fare quello che voleva la strea. Ora, ad Ansel venivano cucinati ogni giorno i cibi più squisiti, poiché doveva ingrassare. Gretel, invece, non riceveva altro che gusci di gambero. Ogni giorno la vecchia veniva e diceva, «Ansel, sporgi le dita, che senta se presto sarai grasso». Ma Ansel le sporgeva sempre un ossicino, ed ella si meravigliava che non volesse proprio ingrassare. Dopo quattro settimane, una sera disse a Gretel, «Vai a prendere dell'acqua, svelta, grasso magro che sia, domani ammazzerò il tuo fratellino e lo cucinerò. Nel frattempo mi metterò a impastare il pane e a cuocere nel forno». Con il cuore grosso, Gretel portò l'acqua nella quale doveva essere cucinato Ansel. Dovette poi alzarsi di buon mattino, accendere il fuoco e appendere il paiolo pieno d'acqua. «Ora, fa' attenzione», disse la strega, «accendo il fuoco nel forno per cuocere il pane». Gretel era in cucina e piangeva a calde lacrime mentre pensava, ci avessero divorato le bestie feroci nel bosco. Almeno saremo morti insieme senza dover sopportare questa pena e io non dovrei far bollire l'acqua che deve servire per la morte di mio fratello. «Buon Dio, aiuta noi, miseri bambini!» La vecchia gridò, «Gretel, vieni subito qui al forno!» E quando Gretel arrivò disse, «Dai un'occhiata dentro se il pane ben cotto è dorato, i miei occhi sono deboli e io non arrivo a vedere fin là. E se anche tu non ci riesci, siediti sull'asse e ti spingerò dentro, così potrai controllare meglio». Ma la perfida strega aveva chiamato Gretel perché pensava, una volta spintala dentro al forno, di chiuderlo e di farla arrostire per mangiarsi pure lei. Ma Dio ispirò alla fanciulla un'idea e ne la disse, «Non so proprio come fare, fammi vedere tu per prima, siediti sull'asse e io ti spingerò dentro». La vecchia si sedette e siccome era leggera, Gretel poteva spingerla dentro, il più in fondo possibile. Poi chiuse in fretta la porta e mise il paletto di ferro. Allora la vecchia incominciò a gridare e a lamentarsi nel forno bollente, ma Gretel scappò via ed ella dovette bruciare miseramente. Gretel corse da Ansel, gli aprì la porticina e gridò, «Salta fuori Ansel, siamo liberi!». Allora Ansel saltò fuori come un uccello quando gli aprono la gabbia ed essi piansero di gioia e si baciarono. Tutta la casetta era piena di perle e di pietre preziose. Essi se ne riempirono le tasche e se ne andarono in cerca della via che li riconducesse a casa, ma giunsero a un gran fiume che non erano in grado di attraversare. Allora la sorellina vide una natrina bianca nuotare di qua e di là e le gridò, «Ah, cara natrina, prendici sul tuo dorso!». Udite queste parole, la natrina si avvicinò nuotando e trasportò prima Gretel e poi Ansel dall'altra parte del fiume. Dopo breve tempo ritrovarono la loro casa. Il padre si rallegrò di cuore quando li rivide, poiché non aveva più avuto un giorno di felicità da quando i suoi bambini non c'erano più. La madre invece era morta, ora i bambini portarono ricchiette a sufficienza perché non avessero più bisogno di procurarsi il necessario per vivere. E anche questa roccambolesca favola è finita. Un bacio a tutti da Gossip.